Abbiamo per due giorni Bologna che sarà la capitale del subuteo mondiale e credo che dia una mano anche qui a rappresentare, a far conoscere il nostro territorio, ad attrarre persone che si fermeranno qui qualche giorno e comunque al di là di questo è una passione sportiva di un gioco che ha segnato davvero alcune generazioni. Credo che lasciasse un grande spazio anche alla fantasia e questo in un mondo di contatti reali e di contatti umani è qualcosa che andrebbe preservato. Ci sono partecipanti che sono tutti a meno nelle prime 20 posizioni del ranking e questo è uno dei tornei più rinomati a livello mondiale, perciò da punti è organizzato bene, è una bella città, ci sono tutti requisiti perché sia un successo. Ci sono sei categorie, si parte dall'Under 12, l'Under 15, l'Under 19, l'Open, i veterani e la categoria femminile.